Bella ragazzi sono Dragross e bentornati in questo nuovissimo episodio di Golden Sun 3 Abbiamo attivato, cioè attivato Abbiamo affrontato le rovine di Oku, abbiamo attivato tutti i meccanismi, tutti e tre E di conseguenza si sono alzate queste torri Abbiamo preso il Dijin Che era lì su, più o meno E ora dobbiamo ritornare a Oku perché nella torre più grande, che è quella principale C'era la porta chiusa dove specificava che era chiusa a chiave Quindi speriamo che magari parlando con queste persone ci danno qualche aiuto alla ricerca della chiave Così possiamo entrare? Non so, adesso vediamo Abbiamo un cristal cenere tra l'altro qua Vedrei anche di entrare nelle diverse case Avete conosciuto l'anziano signore che vive qui vicino? È un canta storia, conosce tutti i racconti dei tempi che furono Che è una tela sta roba? Le correndi portano a riva i legname delle barche distrutte Dopo la tempesta ci può volere molto tempo per ripulire tutto Un attimo che qua c'è un vaso E infatti guarda che è pieno Con una noce Però anche questa cassa però sicuramente sarà vuota infatti Non l'abbiamo visto qua Vuoto Allora qui vicino c'è un canta storia Quindi magari è in questa casa Che è sto anziano? Hojiki Ah ecco è lui Siete voi guerrieri che hanno salvato mio figlio e mia nipote Vi ringrazio da profondità Sì non essere così però A quanto mi hanno detto Avete usato uno strano potere per riscaldare le ossa di mio figlio Posso vedere questo potere? Allora Questo potere Non si do Questo potere La psenergia Non si dovrebbe usare In mezzo alle persone Alle persone che Non hanno questo potere Perché altrimenti c'è C'è un conflitto Sì che è È una storia lunga Ma tipo si crea una specie di conflitto Perché Cioè tu hai un potere Cioè tu usi Un potere In mezzo a Della gente normale Cioè Proprio Psicologicamente Le persone normali Vedere che tu riesci a fare una magia E loro sono incapaci Perché non hanno le abilità Cosa che tu invece hai Io te la faccio vedere lo stesso Però Basta che sia solo Tra me e te però Anche se non si dovrebbe Perché una delle regole Perché una delle regole più importanti è Mai usare la magia Di fronte agli occhi Delle altre persone Ok A meno che non ci sia una situazione Molto Molto Ma molto Ma molto Particolare Molto particolare Altrimenti la magia In mezzo a A delle persone Ma anche degli amici Non si dovrebbe Neanche fare La magia Si dovrebbe utilizzare Solamente Quando si è Da soli Perché può essere Pericolosa La magia Può uccidere Non sto scherzando La magia La magia Può uccidere Può uccidere qualcuno È peggio di un'arma da fuoco La magia Infatti è anche per questo Che Molte città In molte città La magia è stata proibita Quindi Le persone I maghi Quando entrano nelle città Sono sempre visti male Diciamo un po' Dagli Abitanti Se tu vuoi scatenare Non so Un mega uragano Fallo fuori in campagna Vabbè Diciamo sì Grazie Lo apprezzo molto Potete muovere un oggetto Così che io posso vedere Questo Potere all'opera È un oggetto Questo cosa Quel potere Come È quella La luce Che aveva visto È proprio quella La luce In qualche modo Ha guarito La gamba Di papà Quando Kaburo Mi ha parlato Di questa Luce Guarditrice Mi sono chiesto Saranno davvero Loro E si trattava Proprio Di voi Cosa E Come fa Questa ragazza A vedere La Psenergia Non è un ragazzo Anche Il nonnetto Può Vederla La Psenergia È un potere Della mente Come può Un non Adepto Vederla Utilizzando Solamente Gli occhi Ecco Questa è Una Domanda Che poi Si riferisce Alla frase Che ho detto Io Tu non puoi Utilizzare La magia Mentre sei In mezzo Delle persone Che Non la sanno Usare La magia Cioè Non hanno Proprio Le capacità Che poi È tutta Una cosa Mentale Della forza Del corpo La magia Perché Alla fine La magia Sfrutta L'energia Del corpo In un certo Senso Quindi Quella luce È la Psenergia Dovete proprio Essere voi Allora Ma questo Ci conosce Cosa Di cosa Stai parlando Okiji Di coloro Che si Dirigeranno Alle rovine Di Yoku Sul Colle Del mattino Guerrieri Che Prendiscono Armi Che Non sono Armi Che vuol dire A parte che Le rovine Di Yoku Ci siamo Già stati Io che Ancora un po' Stavo impazzendo Che ancora un po' Quando uscivo Di casa Non Uccidevo Uno Comunque se abbiamo Già visto un po' Le rovine Di Yoku Rovine di Yoku Un edificio Leggendario Che sovrasta Il collo Del mattino All'isola Di Yoku In attesa Di pro Di guerrieri Diciamo Poi la frase Guerrieri Che brandiscono Armi Che non Sono Armi Che frase È Armi Che non Sono Armi Anche Crade Nello Lo dice Però In maniera Più Pacifica Io sono Più Aggressivo Esatto Armi Che non Sono Fatte Di legno O Acciaio I guerrieri Che le usano Dovranno Riunirsi Al colle Del mattino Gli unici In grado Di combattere Senza Bisogno Di armi Sono Gli Adepti Queste Devono Essere Le storie Tramandate Dai Tuoi Antenati Giusto Non Sono Semplici Storie Sono Parte Di Una Profezia Un Messaggio Del Passato Per Il Futuro Cosa Dice Esattamente Quella Profezia Quando la luce di luna e la torre sommersa toccherà L'oscurità tutto avvolgerà Quello che in bellezza ha avuto inizio Nel terrore finirà Rifugi l'ombra Cammina nella luce Per sfuggire all'eclissi Corri veloce Questa suona proprio come una profezia molto accurata Questa non è una profezia Difficilmente sono così accurate No Questo sembra più un resoconto degli eventi storici La torre di Dharan era Una macchina costruita dalle antiche per aiutarli a migliorare la loro Comprensione dell'alchimia La sua fonte di energia era la luce Ma ha funzionato troppo bene Quine è stata attivata Anche loro devono aver ottenuto un risultato simile a quello di Tian Feng Cosa sperano di ottenere? Forse stavano cercando di fare qualcosa che non si può fare con la Psenergia? Hai ragione Qualcosa che trascende i quattro elementi Forse considerando quello che è successo stavano cercando di controllare la luce e l'oscurità Una volta i Genei governavano l'intero mondo di Weyard e i quattro elementi Eppure volevano ancora più potere Ancora più potere Oltre a quello che avevano già raggiunto Esiste solo l'onnipotenza Il potere totale In qualunque modo tu lo voglia chiamare Il risultato è quello Il domino assoluto di tutto ciò che esiste Eh, però è figo, Nai Non sarebbe male avere il dominio di tutto quello che esiste È incredibile E volevano ottenerlo tramite l'alchimia La profezia delle rovine di Hoku dice che i suoi campioni Sarebbero stati molto perspicaci Hai centrato il punto Ci serviranno altre informazioni Cosa ci puoi direci di questa torre? Nulla Sono solo un canta storia dei villaggi di un'isola Della quale probabilmente non avete mai sentito parlare prima Cosa vi aspettavate? Si stanno incazzando Eh, in effetti hai proprio ragione Faccio del mio meglio Ma se, una bella risata e via Basta non ce la faccio più Ok, Kraden Per favore smettila Ti prego Questo tipo è proprio simpatico Ma insomma Anche tu mi piaci, nonnetto Scusate È per forza Se hai ragione Torniamo a noi Alleluia Un applauso per Kraden Giusto Se non vi dico Qual è il combito dei guerrieri Delle rovine di Hoku Non avrò Adempiuta doveri Di un canta storie In tal caso Dici tutto D'accordo Dunque C'era una volta No eh Non sappiamo se le rovine di Hoku Siano apparse Proprio lì Perché i guerrieri Si erano radunati In quel posto O se i guerrieri Abbiano scelto quel luogo Perché le rovine Erano lì Ma sappiamo Che si sono incontrati Sul colle del mattino Perché questi guerrieri Erano attratti Alle rovine di Hoku Qual era il loro scopo Usare questa chiave Prego Il gruppo Chiedono una chiave Delle rovine Che è Quella famosa Chiave C'era un tesoro Custodito Nelle rovine di Hoku Una volta trovato Avrebbe guidato I loro passi Non ci capisco più niente I tesori Avrebbero guidato I loro passi Com'è possibile Tesoro Rovine Non ci capisco niente Non capisco nemmeno io Ma è ovvio Che dobbiamo dirigirsi Verso il colle del mattino E scoprire Cosa c'è Nelle rovine di Hoku Dobbiamo Aprire la porta Per scoprirlo Andiamo allora Non perdiamo altro tempo So che sareste voi I nuovi paladini Del mondo Ma si Ok Non c'è niente No Magari qua c'è qualcosa Mio marito e mio figlio Sono tornati Sono tornati Senni salvi Sapevo che C'è L'avrebbe fatto Vabbè Sapevo che era successo Qualcosa sul continente Ma non immaginavo Che c'è raggiungesse Fin qui Che sciocco Quando ho appoggiato I piedi Sulla sabbia Sabbia Spiaggia Il mare era calmo Ma poco poco È scoppiata la tempesta Se non fosse stato per voi Eh Ciao 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 Nocciolina Delle leggende del morgal Parla di una stella oscura Che sconfigge il sole Addirittura A quel punto Il sole Si nasconde Dalla vergogna Non me la ricordo Più tanto bene Dovai a farmi raccontarla Di nuovo Da Kojiki Ok Abbiamo la chiave Quindi Questo Sono riuscito A scappare Per un pelo Se non fosse stato Alla festa di Daran E non ce l'avrei mai fatta Guarda qua La loro imbarcazione Si è scantata Contro uno scoglio E tutti quegli uomini Bestie Sono venuti A chiedere il nostro aiuto Devo dire la verità Mi mettono paura All'inizio ho pensato Che fossero dei mostri Certo Abbiamo aiutato Tutte quelle Quelle persone Del continente Era nostro dovere Farlo Quei mostri Escono dall'oscurità E non smettono Di seguirti Questa roba Cosa Serve qualcosa Sta roba Queste dovrebbero essere Alghe Non lo so Fatto sto che Dobbiamo risalire Siamo messi Bene o male Ma vabbè Abbastanza bene Ehm Si Tu fatti un piccolo Rimedio Un altro E un altro Ariuna E dovremmo essere A posto Yes Se tanto L'apsenergia Si ricarica Da sola No qua Dove c'è la nostra barca Dobbiamo andare Ritornare la A cosa Andiamo Pam 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 Andiamo a prendere La chiave Su Chi è che ha La chiave Ariuna Che ha delle rovine Usa Entriamo Che roba è E' Quello Ma che roba è Sembra Un Un uovo Siete sicuri Il tesoro Delle rovine Di Goku Sarà quella pietra A guidarci Io non seguirò Nessuna stupidissima Pietra Forse il vero tesoro E' stato rubato Improbabile Quando siamo Arrivati alla porta Era chiusa a chiave Non è che E' una trappola Vero Spero di no Nessuno sarebbe Potuto entrare Senza la chiave E le rovine Sono apporse Completamente Solo dopo L'inizio Dell'eclissi Anche se qualcuno Avesse Voluto Rubare il tesoro Mi pare Che questo posto Sia piuttosto Sicuro Nessun lato Sarebbe stato In grado Di arrivare Fino a qua Beh Bel tesoro E ora Che facciamo Perché Non lo chiediamo La pietra Pietruccia Tu lo sai Dove Dobbiamo andare Forse Non capiamo Cosa serve Ma Sono stati Genei A nasconderla Deve trattarsi Di qualcosa Di importante Ma Super Importante Aggiungerei Io Carissa Ragione Dobbiamo avere Fiducia Nei nostri Saggi Antenati Inoltre Io sono Un esperto Di tesoro Antichi Prendiamo La pietra D'accordo Se Crade Dice Che ci Serve A me Basta Perfetto Prendiamo La pietra E andiamocene Da qua Non so Perché Ma Ho Un Brutto Presentimento Ottengono Il terzo Occhio Si Si Chiama Così Posso 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 Almeno Sapere A che Cosa Serve Il terzo Occhio Usa Non è Che Mi Convince Tanto Comunque Me L'ho Date A me Perfavore Rema Un Alleato Ok Ora Ce l'ho Io Il terzo Occhio Allora Il digine Lo abbiamo Preso Quindi Non vorrebbe Essarci Problemi Con il terzo Occhio Adesso Che cosa Dovremmo Fare Dovremmo Ritornare Indietro Lì A Riparlare Con il tizio Questa cosa Io non L'ho Mica Vista È Un passaggio Segreto E Vabbè Fermi Fermi Tutti Che Nessuno Si Muova Devo Spaccare Questo Coso Allora Così Tac Tac Far No Perché Comunque Questo Dobbiamo Farlo Risollevare No 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 Qua Stiamo Allora Qui è tutto Bloccato Qui non possiamo Muovere Aspetta Così Vabbè Che Dijin è Questo Goccia Si piazza Su Ariuna Goccia Questo Aliato Spirito Rappresenta L'acqua Che Sgorga Dalle Fonti Ed è Stato Trovato A Hoku L'acqua Che Genera È Incredibilmente Rinfrescante Posso vedere Un attimo Di Vacca Troia Come siamo Missi Mali Dijin Allora Aspetta Aspetta Ok Allora Tu dovresti avere Un coso fuoco Però qui C'è un Casino Di Dijin Allora Questi sono Suoi Questi Allora Allora Quanti ne abbiamo Noi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Noi abbiamo Dodici Dijin Quattordici Dijin Giove Quattordici Dijin Mercurio E Dodici Dijin Allora Dodici Dijin Quattordici Quattordici E Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Allora Abbiamo Dodici Dodici Quattordici 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 Dodici 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 Quattordici Nuovo Dijin Per noi Comunque Si Sei Impigliato Nella Nella Roccia E Questa La cosa Che So Che Voglio Salvare Il mondo Cioè Così Non ci Dice Nulla Basta Il terzo Occhio Che Aspetta Già che ho salvato Se vabbè Prendere il Dijin Poco prima Voglio Vedere a cosa serve Posso usarlo In qualche modo Drago ha deciso Che ora Non è il momento Giusto Per usare Quello strumento Ma Bisogna Ma Scusa Bisogna farlo Dentro lì Forse No Non è il momento Giusto Dobbiamo Ritornare qui Non penso Allora Aspetta No Prima non c'era L'acqua Perché qui Prima non c'era L'acqua Adesso L'acqua c'è Eh no Vedi A meno che Non dobbiamo rifare Il G Merda Aspetta Eh Qua ci sono brutte persone Qua Qua sfuggire È un casino Eh Aia Ah Cavoputtana Sì però hanno Ammazzato a riuna Però Persecuzione Allora Fai così Boom Ora Visto che C'è l'acqua Adesso Non è che Cioè Noi proviamo Eh Poi Eh 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 Qua Se Serverà Qualcosa Sì questa Ah Ok Sì infatti qua C'è Per entrare Qua dentro Ma qui dentro Ci siamo Già stati O sbaglio No Cos'è Una nuova Evocazione Sì Co Coatlicue Che cacchio nome è Servono i seguenti Di ginne Tre Mercurio Tre Giove Va bene Tutto questo per prendere Qua è solamente per prendere Il coso Ritorniamo Abbiamo finito Quindi Se non c'è più niente Qua Devo un attimo curare Perché Allora abbiamo No Non mi interessa Allora C'è Lo spirito E a Riuna Sì 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 Ah Riuna ci serve E fatti Basta così Come siamo messi Eh Maluccio Dormiamo E poi ci salutiamo L'In Dov'è l'In L'In Eccola qua 126 Vabbè Sì A posto Beh ragazzi Direi che questo Episodio È tutto Di Golden Sun 3 Vi ricordo che se Non siete ancora iscriviti al canale Iscrivetevi Se volete Nel risultato Nel prossimo episodio Di questo Gioca Di altri giochi Mettere un bel Policcio Nessù Se vi è piaciuto L'episodio Noi ci risentiamo Con un prossimo episodio Di Golden Sun 3 L'alba Oscura Bella